mi dispiace ma purtroppo in questo periodo non riusciamo ad assumere nessuno ma io ho anche il diploma ho bisogno di lavorare guarda non è una questione di diploma ma con la crisi non possiamo assumerla va bene arrivederci arrivederci sono nati in questo mondo piangendo in braccio al dottore che mi stava dicendo goditi il momento e le lacrime qualche poi non avrai manco soldi per piangere ma se c'è vita c'è speranza e chi vive di speranza muore deluso non nasciamo fregati più o meno come in italia i laureati non voglio fare l'università per lavorare poi in qualche bar ma in italia va così nasci già marchiato non contano diplomi o lauree ma quanto sei stato raccomandato vorrei girarmi tutto il mondo e dare la forza a quelli che non hanno nulla come me e non abbiamo soldi manco per piangere vorrei girarmi tutto il mondo e dare la forza a quelli che non hanno nulla come me e non abbiamo soldi manco per piangere mio padre mi dice prendi una qualifica entra in politica e fare più soldi che entrare in classifica ottimo racconto ma chi troppo vuole poi avrà l'estratto conto vogliono l'iphone le mac e il diploma lo prendono per lavorare al mac donalds e chi punta in alto che gode perché chi si accontenta rodi io credevi in quest'italia ma senza soldi qui non fai strada la fortuna è cieca ma la sfiga vede bene il suo braccio è letale fatale come per ulisse il canto delle sirene vorrei girarmi tutto il mondo e dare la forza a quelli che non hanno nulla come me e non abbiamo soldi manco per piangere e per un posto fisso preghiamo il crocifisso fra poco verrà tolto per non fare dal razzismo leviamo il catechismo e l'inno così cambiamo aria e mettiamo il ritornello che va bene per l'italia vorrei girarmi tutto il mondo e dare la forza a quelli che non hanno nulla come me e non abbiamo soldi manco per piangere eccoci qua ecco il contratto l'ho già fatto preparare già pronto e sono da firmare che lo scusa se non ho il diploma è un problema eccoci qua ecco il contratto l'ho già fatto preparare già pronto e sono da firmare assolutamente no per lei nessun problema bravo bravo si figuri prego devi solo firmare eh